Musica Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare il professor Fortis e il professor Quadriocurzio per le bellissime parole. Sono veramente molto emozionata e molto toccata da quello che hanno detto e vorrei mandare anche un pensiero di grande gratitudine al presidente Renzi e al sindaco Pisapia che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere in altre occasioni. A questo punto vorrei anche ricordare che il ciclo di seminari e di conferenze organizzato dalla fondazione Edison è di altissimo livello e quindi sono particolarmente contenta di essere stata invitata a partecipare con una presentazione sul CERN. Il CERN non soltanto come centro di ricerca scientifica, di eccellenza scientifica, ma anche come un centro con risvolti tecnologici, sociali, economici molto importanti che cercherò di sottolineare. Vi ricordo che il CERN è il più grande e il più importante laboratorio al mondo per la fisica delle particelle. Dal punto di vista formale il suo statuto è quello di organizzazione internazionale basata su un trattato fra governi e a sede a Ginevra. La sua missione principale è la scienza, quindi la ricerca in fisica fondamentale nel campo della fisica delle particelle elementari. Ricerca che ormai il CERN conduce dall'inizio della sua attività nel 54, quindi ormai 60 anni, e che è stata coronata nei decenni da grandi scoperte, l'ultima delle quali il bosone di Higgs, e anche da premi Nobel attribuiti a scienziati del laboratorio, per esempio Carlo Rubbia nell'84. È un centro in cui gli scopi scientifici ambiziosissimi richiedono lo sviluppo di tecnologie di punta in moltissimi campi, tecnologie che sono poi trasferite alla società a vantaggio della vita di tutti i giorni. Un esempio molto famoso è il World Wide Web, che fu inventato al CERN nell'89-90, fu introdotto con lo scopo semplicemente di facilitare lo scambio di informazione fra gli scienziati coinvolti nell'attività del CERN, e poi sappiamo che ha cambiato il modo in cui la società accede all'informazione. Vorrei aprire una parentesi in questo caso. Essendo il web stato introdotto in un centro di ricerca in fisica fondamentale, finanziato pubblico, finanziato con denaro pubblico, tutti i risultati del CERN, siano essi scoperte scientifiche o sviluppi tecnologici, sono a disposizione gratuitamente per l'umanità. Quindi non c'è nessun brevetto sul web, se il web fosse stato inventato da un privato, questo privato avrebbe messo un brevetto e quindi ogni volta che cercate di navigare dovete pagare. E invece questo non succede perché è un prodotto di una istituzione pubblica. Il CERN è anche un centro di formazione per gli scienziati di domani, ma anche studenti delle scuole superiori e dei loro insegnanti, come vedremo più tardi. E come già accennato è un posto eccezionale, un esempio concreto di pace, perché attira scienziati di tutto il mondo. Più di 11.000 scienziati, più di 110 nazionalità differenti. È stato menzionato precedentemente che questi scienziati vengono da paesi che sono in guerra, alcuni di questi scienziati vengono da paesi che sono in guerra e alcuni da paesi che non si riconoscono neanche l'un l'altro il diritto all'esistenza. E quindi è senz'altro un segno molto forte di collaborazione pacifica. Il CERN fu fondato nel 1954 da 12 paesi europei, dietro la spinta fortissima di uomini politici e scienziati illuminati, di grande visione, fra questi ricordiamo l'italiano, il grande scienziato italiano Edoardo Amaldi, ricordiamo Werner Heisenberg, padre della meccanica quantistica, uno dei padri della meccanica quantistica, Niels Bohr, uno dei padri dell'atomo. Lo scopo del CERN era duplice nella loro visione. Riportare l'asse della scienza in Europa, l'asse si era spostata in America durante la seconda guerra mondiale, a causa della guerra, a causa delle persecuzioni razziali. E inoltre anche incoraggiare la pace in Europa dopo gli anni devastanti della guerra. Oggi il CERN conta 21 paesi membri, tutti europei, più Israele l'ultimo entrato, perché dal 2010 il CERN ha aperto le sue porte anche a paesi, diciamo come stati membri, a paesi non europei. Il budget è di circa un miliardo di franchi svizzeri all'anno. Se vi sembra tanto, vi ricordo che corrisponde in media a un cappuccino all'anno per cittadino europeo. In media perché ovviamente il cappuccino è abbastanza a buon mercato, è anche piuttosto buono nei paesi del sud Europa, in particolare in Italia, e quando vi spostate poi al nord diventa molto molto più caro e la qualità scende, quindi per questo ci tendo a sottolineare in media. Il budget è distribuito fra i paesi membri in modo proporzionale al loro prodotto interno. L'Italia contribuisce circa l'11%, è il quarto paese finanziatore dopo Germania, Francia e Inghilterra nell'ordine. La missione primaria del CERN è la scienza, in particolare lo studio delle particelle elementari, fra le quali annoveriamo anche i mattoncini fondamentali della materia, gli elettroni e i quark, e le forze che governano il loro comportamento a livello più elementare. Come tutti sappiamo oggi, la materia è fatta di atomi, gli atomi sono fatti di un nucleo centrale, funziona, sì, un nucleo centrale circondato da una nuvola di elettroni, i nuclei a loro volta sono fatti di particelle chiamate protoni e neutroni, e i protoni e neutroni a loro volta sono fatti di particelle più elementari, chiamati quark, tenuti assieme da altre particelle elementari chiamate gluoni, dal termine glu-cola in inglese. Per quanto ne sappiamo oggi, quark ed elettroni sono particelle elementari, vuol dire che non possono essere spezzate, divise in particelle più piccole, e quark ed elettroni sono i costituenti fondamentali della materia. Quindi tutto quello che vedete in questa stanza, noi stessi, i miei occhiali, questo microfono, tutto quello che vediamo quando osserviamo i pianeti, per esempio, e le stelle, tutto è fatto di elettroni e di quark. Ora, la fisica ha gli acceleratori più moderni, l'acceleratore più potente è il Large Hadron Collider, LHC, che attualmente è in operazione al CERN, ci permette di sondare, di studiare la materia a livello dei quark, quindi su scale più piccole di un miliardesimo di metro. Quindi questi acceleratori possono essere visti un po' come dei microscopi potentissimi che, invece di permetterci di studiare le cellule, ci danno accesso ai costituenti fondamentali della materia. Allo stesso tempo, lo studio dell'infinitamente piccolo ci permette anche di capire l'infinitamente grande, quindi la struttura e l'evoluzione dell'universo. Il motivo è il seguente. Oggi noi sappiamo, dalla cosmologia, ma anche da molte osservazioni sperimentali, sempre più abbondanti e sempre più precise, che l'universo ebbe origine circa 14 miliardi di anni fa da una grande esplosione, un grande botto, chiamato Big Bang. All'inizio l'universo era caldo ed era fatto di particelle elementari allo stato libero. Col tempo si è espanso e si è raffreddato e le particelle libere hanno cominciato a formare i nuclei, degli elementi più leggeri, gli atomi, e poi pian piano gli elementi più pesanti e le macro strutture che oggi vediamo, i pianeti, le stelle e le galassie. Ma all'inizio della sua storia l'universo era semplicemente un gas di particelle e quindi lo studio del comportamento delle particelle elementari ci permette di capire i fenomeni che hanno caratterizzato l'universo primordiale. Questo approccio è complementare agli studi dell'universo che vengono fatti attraverso i grandi telescopi, che studiano l'universo a partire dai grandi oggetti, quindi galassie, supernove, pianeti, stelle di neutroni. Questi studi con telescopi però non possono risalire a epoche dell'universo più lontane di 380.000 anni dal Big Bang. E il motivo è che per epoche più iniziali, quindi prima, diciamo, nella storia dell'universo fino all'età di 380.000 anni, l'universo era opaco. A causa di questo gas di particelle la luce restava intrappolata, quindi non è arrivata fino a noi e quindi i nostri telescopi non possono osservarla. Quindi l'unico modo per studiare l'universo in epoche precedenti è di utilizzare gli acceleratori. Quello che facciamo in pratica, la descrizione che fornirò adesso è scientificamente non rigorosa, è molto semplificata, è pittorica per illustrare, quindi non la ripetiamo troppo al di fuori di questa stanza. Quello che facciamo è accelerare due fasci di particelle, per esempio due fasci di protoni, in un anello in direzione opposta e di farle scontrare. Gli acceleratori sono un insieme tipicamente di campi elettrici e campi magnetici, di solito installati in anelli sotterranei, come vedete in questa fotografia che mostra il tunnel sotterraneo dell'Arch Hadron Collider e questi tubi blu sono dei magneti superconduttori. Nello scontro fra i due fasci, quindi fra due protoni, uno da un fascio e uno dall'altro fascio, possono succedere, succedono tre cose interessanti che vogliamo studiare. Innanzitutto, come quando fate scontrare due camion ad alta velocità, i protoni vanno in mille pezzi, per così dire, e quindi possiamo studiare i componenti elementari del protone, quindi i quark e i gluoni, come interagiscono, e quindi capire come funziona la materia a livello più elementare. Il secondo tipo di studio che facciamo è legato al fatto che l'energia prodotta nello scontro può dare luogo a particelle nuove. Tutti conoscono le equazioni di Einstein E uguale mc al quadrato, che dice che energia e massa sono due forme diverse della stessa quantità, quindi l'energia dello scontro può trasformarsi in particelle massive. E tanto più alta è l'energia dell'acceleratore, tanto più massive e pesanti possono essere le particelle prodotte. E questo spiega per quale motivo il bosone di Higgs è stato cercato per 50 anni, in acceleratori di tutto il mondo, ed è stato scoperto soltanto nel 2012 all'Arch Hadron Collider, perché nessun acceleratore precedente aveva abbastanza energia per produrlo. E infine l'energia della collisione corrisponde a una certa temperatura. Temperatura e energia sono pure forme diverse della stessa quantità e le energie che produciamo negli scontri dei fasci di LHC corrispondono alla temperatura che l'universo aveva un milionesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Vi ho detto che all'epoca del Big Bang era molto caldo e poi si è espanso e si è raffreddato. Perfetto, la temperatura che noi riusciamo a studiare a LHC corrisponde a quella che l'universo aveva nei primissimi istanti della sua evoluzione. Per fare questi studi, quello che facciamo è circondare il punto di collisione fra i due fasci con strumenti di altissima tecnologia, mastodontici come vedremo, che si chiamano rivelatori di particelle e che sono utilizzati per registrare i prodotti della collisione. Quindi per misurare, rivelare, misurare e identificare idealmente tutte le particelle che vengono prodotte nella collisione. Quindi avere una fotografia, come se scattasse una foto, dell'evento di collisione che poi interpretiamo in termini scientifici. L'acceleratore più potente realizzato dall'uomo è il Large Hadron Collider. Si tratta di un anello di 27 chilometri, situato 100 metri sottoterra, alla frontiera fra la Francia e la Svizzera. Quindi questa è un'immagine aerea della regione di Ginevra. Riconoscete forse le Alpi, il lago Lemano, il lago di Ginevra. Questi trattini bianchi indicano la frontiera fra la Svizzera, qui in alto, e la Francia. E questo cerchio giallo indica la posizione dell'anello dell'Alge Hadron Collider, 27 chilometri, 100 metri sottoterra. L'operazione è iniziata nel 2010, e nei primi tre anni, fra il 2010 e il 2013, abbiamo fatto circolare due fasci di protoni, in due direzioni opposte dell'anello, accelerandole ad energie senza precedenti, e questi fasci si sono scontrati in quattro punti dell'anello, dove avevamo installato in quattro grosse caverne sotterranee, quattro grossi strumenti, rivelatori di particelle, chiamati anche esperimenti, i cui nomi sono Alice, Atlas, CMS e LHCB. Atlas e CMS sono i due più grossi esperimenti, sono quelli che nel luglio del 2012 hanno annunciato la scoperta di una nuova particella, appunto, il bosone di Higgs. Vorrei già sottolineare questo punto, poi ne parleremo più tardi, che l'Italia, in particolare attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è l'ente di ricerca nel campo della fisica delle particelle, le università e l'industria, hanno contribuito in un modo veramente importantissimo, molto significativo, ai quattro esperimenti e all'acceleratore stesso. Nel 2013, la prima fase di presa dati è terminata, abbiamo avuto due anni di stop per apportare migliorie e riparazioni all'acceleratore e nella primavera di quest'anno abbiamo iniziato a operare a un'energia, un fattore 2 più elevato. Questa è un'immagine veramente suggestiva del tunnel sotterraneo. Come dicevo poco, anzi, questi tubi blu contengono dei magneti superconduttori di ultimo grido, che costituiscono l'ossatura della macchina, costituiscono, diciamo, lo sviluppo tecnico principale che ci ha permesso di raggiungere energie senza precedenti. Sono magneti superconduttori costruiti, 1.200, costruiti da tre aziende europee leading, un terzo dalla Alstom in Francia, un terzo dall'Ansaldo, quindi italiana, e un terzo dalla Babcock-Nurl in Germania. Sono magneti superconduttori, quindi lavorano a temperature molto basse, 1.9 Kelvin, corrispondono a meno 271 gradi centigradi, quindi solo 2 gradi dallo zero assoluto, il che rende il Large Hadron Collider, diciamo, i magneti dentro questi tubi, il punto più freddo dell'universo, perché, come ho detto prima, l'universo ha avuto origine da una grande esplosione, poi col tempo si è espanso e raffreddato, e se ci chiediamo qual è la temperatura attuale, oggi, dell'universo, in media la risposta è 3 Kelvin, e invece l'LHC lavora a 1.9 Kelvin. Nei fasci di protoni, quando l'acceleratore opera a parametri di disegno, circolano circa 200 mila miliardi di protoni, che si scontrano 40 milioni di volte al secondo nei punti di collisione circondati dagli apparati sperimentali. Gli esperimenti non sono da meno in termini di complessità e di tecnologia. Questo è l'esperimento Atlas, in cui ho lavorato per moltissimi anni, è lungo 45 metri, alto 25 metri, vedete le dimensioni rispetto a un essere umano, in volume ha le dimensioni di circa metà Notre-Dame, la cattedrale di Parigi. L'altro sperimento CMS non è da meno, pesa di più della Torre Eiffel, per stare in Francia, e contiene più ferro della Torre Eiffel. Questi rivelatori sono fatti di milioni, con i 100 milioni di elementi sensibili, di sensori di altissima tecnologia, per la maggior parte pixel di silicio, che permettono di ricostruire la traiettoria di ciascuna particella con precisione micrometrica, e un micron è un milionesimo di metro. E la quantità di dati che ciascun esperimento registra ogni anno corrisponde addirittura superiore al traffico totale su YouTube e Twitter. E se volessimo scriverli su dei normali DVD, ce ne vorrebbero una pila di 20 milioni. Quindi, chiaramente, la domanda è perché, per quale motivo ci siamo imbarcati 25 anni fa in questa grandissima avventura scientifica e tecnologica. Il Large Hadron Collider è stato concepito e costruito per affrontare domande e questioni aperte, misteri molto importanti, in fisica fondamentale. Domanda numero uno. Qual è l'origine delle masse e delle particelle elementari, fra i quali i quark e gli elettroni, come ho detto poc'anzi? Questa è una domanda legata al bosone di Higgs. E quindi possiamo dire che a questa domanda abbiamo risposto in gran parte nel primo periodo di presa dati al Large Hadron Collider. Ma ce ne sono altre, ne cito altre due. Quando noi guardiamo il cielo stellato durante la notte e vediamo bellissime stelle, galassie, pianeti, eccetera, quello che vediamo è soltanto il 5% dell'universo. Il resto, il 95%, è oscuro. Si parla del Dark Universe. Quindi oscuro vuol dire che è fatto di una forma di materia e di energia che non conosciamo. Quindi oscuro indica la nostra ignoranza, ma anche il fatto che queste forme di materia e di energia non interagiscono con i nostri strumenti, come fa la luce, per esempio, o altre particelle note. E quindi ne deduciamo l'esistenza indirettamente da osservazioni tipo i moti rotazionali delle galassie. Nel periodo di presa dati che abbiamo iniziato, l'LHC potrebbe scoprire la particella che spiega la materia oscura, che è circa il 25% dell'universo, e quindi potremmo aumentare la nostra conoscenza dell'universo dal 5% al 30% e sarebbe chiaramente una bellissima scoperta. Ma dipende da come è fatta questa materia oscura. Quindi la risposta è nelle mani della natura. Un'altra domanda molto importante è come mai l'universo è fatto principalmente di materia? Al momento della grande esplosione, materia e antimateria erano presenti in parte uguali. Dov'è finita l'antimateria? Per fortuna se n'è andata, perché altrimenti non saremo qua, in quanto materia e antimateria si annichilano l'un l'altro. Quindi se sono presenti in parti uguali, noi non saremmo qua. Eccetera. Quindi mi limito a questa lista. E vorrei spendere qualche minuto per cercare di spiegare in maniera molto semplice e di nuovo scientificamente non rigorosa, il ruolo fondamentale, perché il bosone di Higgs è così importante, perché se ne parla moltissimo. Prima della scoperta del bosone di Higgs, e quindi per decenni, ci siamo posti la domanda di come le particelle elementari acquistano massa. E in particolare, come mai il fotone, che tutti noi conosciamo perché è la particella della luce, quindi in questa stanza, questa stanza è piena di fasci di fotoni. Il fotone non ha massa, è pure energia, e infatti si muove alla velocità della luce. Invece, altre particelle, ad esempio il bosone W, sono massive. Il bosone W è una massa che è circa 100 volte la massa del protone. Il bosone W, vi ricordo, è una particella molto importante, scoperta al CERN all'inizio degli anni Ottanta. grazie a questa scoperta, Carlo Rubbia ricevette il premio Nobel nel 1984, ed è responsabile, questa particella, dei decadimenti radioattivi o delle reazioni termonucleari nel Sole che ci danno il calore per poter esistere. Quindi non era chiaro perché alcune particelle fossero massive e altre no. All'inizio degli anni Sessanta, tre fisici, François Englert, Robert Braut e Peter Higgs, svilupparono una teoria che stabiliva l'origine delle masse e delle particelle a un istante ben preciso della storia dell'universo, cioè 10 alla meno 11 secondi dopo il Big Bang, un centesimo di miliardesimo di secondo. Quindi quello che è successo, che poi oggi sappiamo essere vero, è la cosa seguente. Subito dopo il Big Bang, tutte le particelle elementari viaggiavano alla velocità della luce ed erano pura energia, non avevano massa. E l'universo era vuoto. Un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, la temperatura dell'universo è scesa sotto un certo livello e questo ha portato il cosiddetto campo di Higgs a entrare in azione. Un campo può essere considerato un po' come un mezzo che permea l'universo. Quindi immaginate l'universo all'inizio è vuoto, poi pian piano un campo si installa. E quindi un mezzo si installa nell'universo. A questo punto le particelle vedono, sentono che c'è un mezzo che fa attrito, in cui viaggiano. E immaginate queste particelle come delle piccolissime palline, immaginate che il mezzo sia un oggetto un po' appiccicoso, rotolando in questo mezzo, queste palline appiccicano questa colla e diventano più massicce e rallentano. Questo, diciamo in parole poverissime, è il meccanismo di Higgs e il modo in cui le particelle elementari hanno acquistato massa. Un aspetto importante di questa teoria è che come conseguenza di questo meccanismo ipotizzato da François Englert, Peter Higgs e Robert Braut, si prevedeva l'esistenza di un'altra particella, il bosone di Higgs, che è stata cercata da allora, da 64, in tutti i laboratori del mondo, ad acceleratori di ogni tipo, ma non è stata scoperta fino al luglio del 2012, in cui appunto gli esperimenti Atlas e CMS ne hanno annunciato l'esistenza, l'abbiamo osservata chiaramente e adesso oggi il bosone di Higgs è un po' un amico, una particella per noi molto comune, diventata molto comune e questo chiaramente ha portato al premio Nobel a François Englert e a Peter Higgs. Robert Braut purtroppo è scomparso l'anno prima. Ora voi vi chiederete, ma a noi che cosa ce ne importa del bosone di Higgs, delle masse, delle particelle? Sembrerebbe un quesito un po' astratto, in realtà non lo è, perché se gli elettroni e i quark, che sono i componenti fondamentali dell'atomo, non avessero massa, gli atomi non starebbero assieme e se gli atomi non stanno assieme non ci sono gli elementi chimici, non c'è la materia come la conosciamo, ci sono le molecole, non c'è la materia come la conosciamo noi, quindi noi stessi e l'universo non saremmo qui. Quindi è una questione chiave per capire come questo processo di creazione delle masse grazie al quale noi esistiamo ha avuto luogo. Per arrivare a questa scoperta e in generale per portare avanti l'attività del CERN, abbiamo bisogno di quasi 12.000 scienziati, più di 110 nazionalità differenti, israeliani che lavorano insieme ad iraniani, israeliani che, come dicevo poc'anzi al professor Quadrocursi, al professor Fortis, i nostri colleghi israeliani che hanno istituito delle borse di studio per gli studenti palestinesi, taiwanesi con cinesi, Ucraina con Russia, insomma paesi di tutto il mondo che lavorano insieme, scienziati di tutto il mondo che lavorano insieme in modo pacifico. E devo dire che l'accesso al CERN per alcuni dei paesi europei è stato il primo passo verso poi l'accesso alla comunità europea per stabilire delle relazioni. E all'inizio degli anni 50 le prime relazioni fra Russia e Germania furono ristabilite anche attraverso l'attività del CERN. Quindi c'è un ruolo storico, politico, sociale molto importante. Se pensate che questi 12.000 scienziati sono tutti un po' tempatelli e un po' noiosetti, vi sbagliate, perché se guardate all'età, la distribuzione in età dei 12.000 scienziati del CERN, il picco è a 26 anni e più del 50% hanno meno di 35 anni. Io chiaramente sono qua e qua rimango, non mi sposto. Non ridete, non è gentile. Cosa fanno questi giovani dopo aver terminato i loro studi e le loro tesi di dottorato al CERN? Circa metà rimangono nel mondo della ricerca, nel mondo accademico, circa metà vanno nell'industria, telecomunicazioni, finanza, elettronica, eccetera, e sono veramente molto richiesti, un po' per la mentalità analittica che questo tipo di ricerca dà, ma anche per l'abitudine a lavorare in equip internazionale, in gruppi internazionali. Quindi, vista l'età molto giovane dei nostri scienziati, il CERN ha anche un ruolo educativo fondamentale che espletiamo attraverso varie iniziative. Ormai da decenni abbiamo delle scuole di fisica per studenti di dottorato e per giovani ricercatori che all'inizio avevano luogo soltanto in Europa e in Russia, più recentemente siamo andati in Asia, in India nel 2014, quest'anno in Ecuador, quindi in Sud America, ma anche in Africa recentemente, siamo stati in Ghana e nel Senegal. Abbiamo anche attività per gli studenti, scusate, per gli insegnanti delle scuole superiori che vengono al CERN per circa un paio di settimane in estate e ottengono quindi una formazione un po' complementare a quella che hanno avuto nei loro studi, imparano un po' la fisica, diciamo, come si dice, hands-on, con le mani in pasta. Ogni anno accogliamo mille insegnanti delle scuole superiori, dei licei, per questo stage di formazione e ogni anno il CERN apre le sue porte a centomila visitatori di cui circa il 50% sono studenti delle scuole superiori, studenti dei licei che vengono in visita e vengono anche, seguono dei corsi e imparano un po' di fisica sperimentale. L'Italia ha dato un contributo molto molto importante e significativo a questa avventura scientifica, tecnologica e umana grazie a delle tradizioni storiche fortissime del nostro paese che risalgono, come sapete, a Enrico Fermi e al suo gruppo dell'Università di Roma di Via Panisperna, Amaldi, Ponte Corvo, Rasetti, Segre e altri. il CERN ha avuto tre direttori italiani, Edoardo Amaldi, Carlo Rubbia, Luciano Maiani, io sarò il quarto, su 15 in tutta la storia del CERN, quindi chiaramente è un buon record e molti scienziati italiani ricoprono posti di grandissima responsabilità e ruoli di grandissima responsabilità all'interno dell'organizzazione del CERN. E attraverso l'INFN e le università il CERN ha dato contributi intellettuali e tecnologici molto importanti trascinando l'industria italiana in questa avventura. Ho già citato che l'Ansaldo ha costruito un terzo dei magneti di alta tecnologia dell'Algeron Collider e oggi l'albo delle aziende che contribuiscono al CERN contiene 1100 industrie italiane come fornitori attivi del laboratorio. Al momento della costruzione del Large Hadron Collider il ritorno in termini di commesse industriali per l'Italia era superiore al contributo che l'Italia dava al budget del CERN. Oggi il ritorno è a livello del 30% perché non siamo più in un periodo di costruzione ma di operazione. Prima di concludere ancora un paio di trasparenze per citare un paio di aspetti che secondo me sono molto importanti forse non così interessanti per gli studenti ma immagino che ci sia nel pubblico anche ci siano persone che lavorano nel mondo industriale o che addirittura gestiscono delle industrie. Sempre di più il CERN viene preso come un modello di gestione e di governance come si usa a dire e ormai da anni siamo l'oggetto di studio da parte di sociologi scuole di business amministratori e capi di industria. La domanda che ci viene fatta è ma com'è possibile che migliaia di scienziati di tutto il mondo sappiamo che gli scienziati sono sempre un po' creativi un po' diciamo così esotici un po' bizzarri possono lavorare assieme in modo così efficace costruendo strumenti complessi senza precedenti. Per esempio come si diceva prima gli esperimenti ATLAS e CMS coinvolgono ciascuno 3.000 scienziati provenienti da 40 paesi diversi e i componenti dei rivelatori mastodontici che ho mostrato prima sono stati disegnati da centinaia di fisici e ingegneri da centinaia di istituti universitari di tutto il mondo e costruiti da centinaia di aziende di tutto il mondo e poi assemblati al CERN e i contributi di questi paesi di questi istituti di questi gruppi si basano su degli accordi molto leggeri cosiddetti memoranda di intesa memorandum of understanding che non hanno alcun vincolo legale forte sono semplicemente degli accordi leggeri a cui ci si adatta e che si rispetta per motivi di impegno morale io penso che il motivo del successo di questo modello è il seguente prima di tutto l'autorità non viene dalla gerarchia l'autorità viene dal contributo intellettuale quindi anche in uno di questi grandi esperimenti con 3000 fisici che io ho avuto l'onore di coordinare l'esperimento ATLAS se il più giovane l'ultimo degli studenti ha l'idea brillante e ha la soluzione a un problema lo studente più giovane può cambiare il corso dell'esperimento secondo abbiamo un'organizzazione una struttura gestionale altrimenti non saremmo in grado di operare costruire e operare strumenti così complessi e produrre risultati affascinanti come la scoperta del bosone di Higgs tuttavia la struttura è molto leggera è molto semplice in modo da minimizzare la burocrazia perché la burocrazia la rigidità e le strutture pesanti soffocano le idee la creatività del singolo e le idee e la creatività in particolare dei giovani cervelli sono il motore della ricerca quindi la struttura è lì per aiutare i giovani a sepanuire diremo in francese a sbocciare e a maturare ma non è lì per soffocare le idee terzo punto le decisioni si prendono per consenso consenso non vuol dire che tutti sono d'accordo impossibile essere d'accordo in 3000 consenso vuol dire che le decisioni più importanti si prendono i problemi le strategie i piani si discutono in maniera aperta con tutti e infine questo è il punto più importante siamo tutti animati diciamo il nostro motore è la passione comune per la conoscenza e la conoscenza è un valore universale che trascende il passaporto la cultura il linguaggio l'origine è un valore universale in qualche modo pensiamo che nel nostro piccolo contribuiamo a fare qualcosa di bello e di nobile per l'umanità cioè avanzare passo per passo nel cammino nel lungo cammino della conoscenza e Leonardo da Vinci che di conoscenza di tecnologia se ne intendeva diceva il piacere più nobile è la gioia del comprendere il modello funziona tanto che nel 2013 l'Economist uno dei più importanti quotidiani o anzi riviste scusate riviste economiche mondiali intitolò un articolo Titans of Innovation il quale disse è ben possibile che la big science ha più cose da insegnare al big business che viceversa e portava ad esempio appunto il CERN in particolare l'esperimento Atlas e vorrei concludere con solo giusto due slide sull'importanza della ricerca fondamentale perché spesso ci si chiede a me e a molti altri miei colleghi se il bosone di Higgs ha cambiato o cambierà la nostra vita e la mia risposta è che il bosone di Higgs ha già cambiato la nostra vita perché per scoprirlo abbiamo dovuto sviluppare come avete visto strumenti di altissima tecnologia in molti campi dalla criogenia alle tecniche di vuoto all'elettronica al trattamento dati eccetera e queste queste tecnologie sono state trasferite alla società ho menzionato all'inizio il web ma ce ne sono molte altre il campo il campo medico i padelli solari il trattamento dei rifiuti radioattivi eccetera per esempio oggi al mondo esistono circa 30.000 acceleratori di particelle e soltanto una manciata diciamo forse un centinaio di questi acceleratori sono utilizzati per ricerca fondamentale nel nostro campo tutti gli altri sono costruiti sulle nostre tecnologie ma sono utilizzati per altri scopi per esempio in campo medico un esempio è la famosa sempre più famosa aderoterapia che consiste nel bombardare il tessuto cancerogeno di un paziente con protoni e ioni carbonio il vantaggio dei protoni degli ioni carbonio rispetto alla terapia standard della radiazione dei raggi X è che sono molto concentrati quindi toccano colpiscono e distruggono soltanto il tessuto tumorale e non si spandono intorno ad esso a toccare il tessuto sano come invece succede con i raggi e vorrei ricordare che esistono 14 centri di alta tecnologia come questi in Europa e l'Italia ha il CNAO a Pavia il centro nazionale di aderoterapia oncologica voluto dal professor Uga Maldi fisico eminente del CERN vi ricordo anche che da 15 anni a questa parte lo strumento di lo scanner lo strumento di diagnostica più sviluppato più utilizzato nel campo dei tumori è la PET positron emission tomography che si basa su tecnologie del CERN ma al di là di queste applicazioni molto importanti per l'umanità e per la società vorrei ribadire l'importanza del valore della ricerca fondamentale la ricerca fondamentale di base è quella che più stimola le idee e la creatività e la curiosità intellettuale perché non ha alcun vincolo che venga dal profitto o dal dover fornire un prodotto in tempi brevi molte industrie fanno ricerca applicata di altissimo livello e chiaramente molto molto importante bisogna continuare a finanziarla ma questa ricerca è più diciamo mirata a dei prodotti specifici non a diciamo pensare in modo senza vincoli e sappiamo che le idee e la creatività sono la linfa del progresso senza il progresso va avanti a volte in modo diabatico a volte in modo continuo in maniera molto diciamo semplice e senza grandi evolutiva adiabatica senza grandi salti ma prima o poi nella storia ci vuole ogni certo numero di anni una idea rivoluzionale per fare un grande salto ad esempio la luce elettrica di questa stanza non è giusto l'evoluzione della candela non è che costruendo candele più grandi più belle più colorate si arriva a questa luce questa luce ha richiesto un salto quantitativo qualitativo nelle conoscenze e la storia mostra che spesso questi salti qualitativi nelle conoscenze dell'uomo vengono dalla ricerca fondamentale due esempi la meccanica quantistica e la relatività due scoperte teoriche dell'inizio del secolo scorso quando si parla di meccanica quantistica e di relatività si parla forse delle teorie più lontane dalla vita di tutti i giorni la meccanica quantistica ha a che fare con il mondo microscopico noi viviamo in un mondo macroscopico sono teorie spesso antiintuitive spesso ci mettono davanti a dei paradossi ebbene senza meccanica quantistica non ci sarebbero i transistors quindi la nostra vita sarebbe molto diversa e se non correggessimo i segnali dai satelliti per effetti relativistici i nostri GPS ci porterebbero fuori strada ma forse ancora più importante questa è la ultima la mia ultima frasi la conoscenza come l'arte sono fra le espressioni più elevate dell'uomo in quanto essere pensante e quindi hanno una giustificazione intrinseca hanno un valore intrinseco che si giustifica da sé al di là di tutto quello che ha a che fare con le applicazioni gli studenti in questo teatro dovrebbero sapere che Dante Alighieri disse nati non foste a viver come brutti ma a perseguire virtù e conoscenza in tempi più recenti nel 1970 Bob Wilson che ha fondato il Fermi Laboratory negli Stati Uniti il Fermilab è il secondo più grande laboratorio al mondo per la fisica delle particelle agli acceleratori dopo il CERN quindi è un laboratorio di fisica ricerca fondamentale come il CERN alla domanda del congresso americano in visita al laboratorio Fermilab in che modo il suo laboratorio contribuisce alla difesa del paese il signor Wilson rispose in nessun modo ma lo rende più degno di essere difeso grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti